Buonasera, ben trovati alla conferenza stampa del Match Day-1. Iniziamo con le domande, prego. Buonasera, sono andato a vedere ieri e lei con il doppio centravanti lo scorso anno ha giocato dal via in tre partite, con la Sampdoria, a Siviglia con il Betis e poi in casa con il Milan. Mi chiedevo, nella gestione degli attaccanti del doppio centravanti, quella con la Sampdoria, quella con il Milan in casa e con il Betis a Siviglia, dal via, dal primo minuto, il doppio centravanti lo ha giocato con Abram Belotti. Doppio centravanti, perché sono due centravanti. La domanda era però, era riferita a questo, nella gestione degli attaccanti, soprattutto anche nella gestione di un giocatore come Dybala, è possibile domani vedere di nuovo come negli ultimi minuti, come nella parte finale di Roma-Empoli, Lukaku e Belotti insieme? La domanda era, la Roma ha giocato con due attaccanti centrali lo scorso anno dal primo minuto, solamente in tre occasioni. Volevo sapere se domani è possibile, nella gestione fisica di Dybala, vedere dal primo minuto Lukaku e Belotti come si è visto nell'ospensione finale di Roma-Empoli. C'è l'obiettivo della tua domanda è sapere che gioca domani. Io non voglio dire che gioca domani, gioca Karlsdorp, gioca Karlsdorp perché Christensen non può giocare e perché senza Smalling il nostro quarto difensore è Selic. Io ho bisogno di avere un difensore in panchina, giocherà Mancini, Llorente in Dicà, io ho bisogno di avere un difensore in panchina che è Selic. Se mi fai la domanda dei due attaccanti per sapere chi gioca, io non ti dico chi gioca. Se mi fai la domanda con una questione strategica, diciamo così, a me filosoficamente si può dire che io preferisco giocare con due attaccanti, ma dove uno è un giocatore più di creatività e per questo abbiamo giocato Belotti e Sharali, abbiamo giocato Dybala e Tani, questo tipo di combinazioni per natura mi piace di più. Se volete mi chiedere un'altra domanda con cui potete usare, quindi non voglio dire che potete usare, chi potete usare, ma se stagionare, se stagionare un'altra domanda con cui potete usare, cioè, per esempio, Bala, in campagna con un'altra parte, come già fuori non è una volta. Prego. Secondo domanda? Lì in seconda fila, grazie. Buonasera. Ciao. Dopo la finale di Budapest, ripartite da zero in questo torneo, lei aveva già parlato di sogno. Con che spirito si ricomincia da Tiraspol dopo una finale persa, una finale vinta? Qual è veramente l'obiettivo e lo spirito con cui riparte la Roma in questa Europa League? E poi, visto che parlava della difesa, ci può dire almeno se gioca a Villar. È una stagione diversa della stagione scorsa, è una competizione diversa della stagione scorsa. Io continuo a dire e continuerò a dire fino all'ultimo giorno della mia carriera, eventualmente anche dopo, che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Io continuerò a dire questo ogni volta che mi parla della finale di Budapest. Io dirò sempre che questa finale non l'abbiamo persa. Però è una competizione nuova, partiamo da zero. Obiettivo oggi, obiettivo qualificare per la prossima fase. L'anno scorso abbiamo iniziato con una sconfitta e questa sconfitta ci ha creato difficoltà nella qualificazione, però ci ha creato anche una difficoltà di giocare un play-off contro una squadra di Champions che non è facile per una squadra come la nostra che ha tanti impegni durante la stagione. Se possiamo vincere il girone ovviamente sarebbe importante per noi. Tu mi fai la domanda di Villar, io ti rispondo perché tu sei venuto qua da Roma, che non è facile venire. merita una risposta obiettiva. Gioca a Villar, però gioca perché lui ha giocato molto bene l'ultima partita, perché abbiamo vinto, perché lui non ha preso nessuno gol e perché non c'è una minima critica ovviamente a lui. se contro Empoli la cosa non va bene per Rui e c'è qualche tipo di commentario negativo, Rui giocherebbe domani al 100%. Per noi, veramente, è un nuovo sese, che è un nuovo sese, che è un nuovo sese, che è un nuovo sese, e noi cominciamo con nulla, è un nuovo sese per noi. E, probabilmente, per la fine della mia vita, penso che il матч Budapestia per noi non è stato un progresso. Per quanto живo, devo sempre parlare di questo e parlare di Budapestia, che per noi questo non è proigrazione. E sì, in ultimo anno abbiamo fatto con il proigrazione, che crea una difficoltà in qualificazione. Ovviamente, la principale è stata pronti qualificazione. E come vi è arrivato da Rima, e questo è davvero abbastanza, io voglio rispondere alla vostra questione su Liva. Liva, non si può giocare per l'evolta, perché non ho avuto nessun domani non ho capito di risposta. Voi, è stato un problema. Che è un clave per europei, è una squadra non è una squadra di top-leggi. La domanda è questa, che Sheriff, a nostro parere, è una squadra abbastanza modesta, non è una squadra top, ma la mia domanda è se è difficile dare un impulso alla sua squadra di giocare contro la nostra squadra. No, noi abbiamo rispetto per tutti gli avversari, abbiamo perso due anni fa, penso 6 a 1, una partita che si doveva vincere, abbiamo perso l'anno scorso Ludovorets, la prima di girone, e sappiamo che non è mai facile giocare in Europa, principalmente fuori, non è mai facile. Giochiamo contro l'avversario, giochiamo contro il pubblico, giochiamo contro una motivazione speciale per una squadra che ha già detto ai suoi allenatori che l'obiettivo è qualificarsi alla prossima. Giochiamo anche contro una storia, perché nella storia hanno fatto delle cose incredibili. In una competizione come la Champions, non stiamo parlando di 20 anni fa, stiamo parlando di 2-3 anni fa, non è una partita facile. Per questo motivo noi giochiamo con una squadra forte. Io ho detto già chi gioca Karlsdorf, Mancini, Mancini, Dorente, Dicà, sto parlando di 4 giocatori che sono giocatori titolari della squadra. Abbiamo preso giovani giocatori, abbiamo preso anche due giocatori che non sono mai stati con noi, Manini e D'Alessio, ma non sono loro che vogliono iniziare la partita. Noi andiamo in serio. Noi andiamo in serio. Grazie a tutti. 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 L'obiettivo è che io ho la fiducia nella mia squadra e quindi fido nella squadra e questo secondo me porterà al successo. Anche in russo? For loro? Devo tradurre in russo? Per me, ovviamente, questo crea problemi. Non è possibile essere in contatto con mia squadra e non è possibile controllare e spiegare. Inoltre, nel stadio non è possibile trovare la mia squadra e credo che il Scherif sarà trovato la mia squadra, da cui io potrei prendere la mia squadra e vedere il match. La prima cosa, la prima cosa è quello che io credo a la mia squadra e spero che questo effetto avrò al successo. Facciamo l'ultima, grazie. Giuseppe, buonasera. Volevo chiederti questo. Tu hai detto che ogni partita è difficile, soprattutto in Europa. Hai fatto l'elenco delle cose che negli anni scorsi non sono andate. Ha sensazione, visto che anche in campionato ci sono squadroni, Inter, Milan, Juventus, Napoli, le squadre forti non mancano. Ha sensazione per raggiungere questa meta sospirata che è la qualificazione in Champions League. È più facile attraversare il percorso europeo oppure il percorso italiano? Non lo so, onestamente non lo so. L'anno scorso abbiamo tutti noi, noi, dentro, avuto la sensazione che si poteva fare in campionato e che si poteva fare via competizione europea. Penso che era alla giornata 30 che eravamo terzi. E alla giornata 30 eravamo, penso, in quarti di finale di Europa League. Abbiamo avuto infortuni importanti, Dival, Smoling, altri infortuni che abbiamo avuto. In quel momento lì siamo diventati in difficoltà, abbiamo perso poche partite in campionato che in condizione normale no. Siamo arrivati a una finale difficilissima contro una squadra che aveva le stesse ambizioni di noi. Siamo arrivati a dire quest'anno qual è più facile. Tu hai parlato delle squadre in Serie A che sono fortissime. Possiamo andare alle squadre fortissime di Europa League, Liverpool, Brighton, West Ham, Leverkusen, Tante squadre fortissime di Atalanta. Io non riesco a dire dove è più facile arrivare. Non riesco a dire. E non riesco neanche a scegliere una competizione perché per me è sempre la prossima partita. La prossima partita è questa di Europa League. È la Europa League la più importante per noi oggi. La prossima partita è la prossima partita. 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 Grazie. La prossima partita è la prossima partita. è la prossima partita. la prossima partita è la prossima partita. la prossima partita è la prossima partita. e la prossima partita è la prossima partita. 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 è 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 la prossima partita è la prossima partita. la prossima partita è la prossima partita. è la prossima partita è la prossima partita. e il prossimo partita è la prossima partita è la prossima partita di luogo inrijial. la prossima partita è la prossima partita è la prossima partita di luogo dell'interno. il finale della Champions League, qual'è il tuo planno? Siamo speriamo, è un buon passo, se vincere la Champions League, l'ultima settimana perdiamo la finale della Europa League, ma tu sempre starti un tournamento per vincere il tournamento, altrimenti è meglio di rimanere a casa, quindi ovviamente vogliamo vincere, e questo è quello che facciamo, o quello che facciamo, e sì, guardo, come ho detto prima, voglio giocare di nuovo, e voglio giocare di nuovo, e quindi la Europa League è una buona stagione per me. La questione è in cui, quali i vostri plani per il futuro? Do you want to find a finale della Europa League? E, sì, la mia задачa è che ci siamo, l'obiettivo, l'obiettivo principale è andare avanti e non fermarsi, quindi la vittoria nell'Euro League è il principale per me. Facciamo Massimo, sì. Volevo chiederti questo, volevo sapere se avevi superato i problemi al ginocchio, i problemi fisici che avevi avuto, e se la concorrenza di tre terzini destri è una cosa che ti è mai capitato nella tua carriera di avere una concorrenza così grande per il tuo ruolo. Grazie. Io volevo sapere se avete... Go, go, go. Perfetto. Se avete mangiato a risolvere i problemi con i piedi. La seconda parte, per favore, il ginocchio, e poi un'altra domanda. Se avete mai capitato nella tua carriera, mi è mai successo che avevi una concorrenza così grande per il suo ruolo, perché sono tre terzini qui, quindi sono tre terzi per il suo ruolo. Hai mai avuto una concorrenza in tua carriera? L'ultima season ho sofferto molto con i piedi, ho fatto due surgery. Mi sono ok ora, sto treando ogni giorno, voglio giocare di nuovo, mi sento come un giocatore di giocatore, quindi, prima di tutto, il mio piede è ok ora. La seconda parte, è sempre bello avere altri giocatori in tua posizione, che ti rende più forte. Abbiamo molti giocatori durante la prossima settimana, quindi è sempre bello avere altri giocatori in tua posizione. siamo, per esempio, con tre, siamo tre tipo di giocatori, e è il giocatore che fa la decisione di chi giocare. Ma, sì, mi piace, perché ti rende a un livello più alto. secondo, quindi non c'è nessun problema con il ginocchio, grazie per la domanda. E la seconda, è che per me questa concorrenza crea un nuovo livello di motivazione, perché è sempre allenatore che deve decidere che di noi tre deve giocare. e quindi, io sto sempre in questa concorrenza, godenndola diciamo così in russo. prima di tutto, ho chiesto di domanda, ho chiesto di domanda, per me, che ho chiesto di domanda, che ho chiesto di domanda, perché ho già fatto due operazioni, e ho già fatto due operazioni, e ho fatto ogni giorno, non rispettando alcuni problemi, Grazie mille. Grazie mille.